ciao a leggo risultati impeccabili niente po po di meno una lavastoviglie che coniglia tecnologia con una qualità di lavaggio impeccabile adesso però ne voglio sapere di più bene allora perché è così particolare unica è unica perché inizialmente una lavastoviglie a scomparsa totale quindi da incasso ok una capacità di 14 coperti quindi molto capiente tanta roba e riesce ad avere un risparmio del 10 per cento rispetto a una classe a normale addirittura 10 per cento meno di una classe a esatto grande risparmio ma anche grande qualità di lavaggio non avevo dubbi infatti la samsung offre una nuova tecnologia che si chiama waterjet clean a differenza di altre lavastoviglie ha due bracci rotanti in senso opposto che quindi spruzzano l'acqua per pulire anche le parti più incrostate con solo un 8 meno di 8 litri di consumo praticamente pochissimo pochissimo per cui risparmio anche sull'acqua consumata sull'acqua consumata si un'altra prova di efficienza energetica è proprio la tecnologia dry care che garantisce una temperatura più bassa in fase di risciacquo comunque avendo grandi risultati lo stesso per il lavaggio delle delle stoviglie esatto grazie anche la doppia ventilazione di in fase di asciugatura che aiuta anche le stoviglie in plastica che sono quelle più difficili da asciugare per cui anche la fase di ventilazione è calibrata apposta per consumare meno e dare più efficienza per consumare di meno e quando finisce la lavastoviglie si apre automaticamente dei 10 centimetri per agevolare la fuoriuscita del vapore ah e questo vuol dire che dà anche un'asciugatura più naturale più rapida e naturale si domanda ma è anche silenziosa certo grazie al motore inverter e al suo programma apposito extra science riesce ad avere una rumorosità come se fossi in una biblioteca quindi per i programmi notturni che sono magari un po più lenti però vai a risparmiare sulla rumorosità allora oltre al programma super silenzioso abbiamo un altro programma molto interessante che è l'hygine care è un programma che in fase di risciacquo arriva fino al 70 gradi di temperatura e quindi elimina fino al 99,99 per cento dei batteri è molto pratico per igienizzare le nostre stoviglie si a ti vedo con lo smartphone per cui presumo che sia anche wifi esatto sto configurando la macchina per verificare i consumi e i programmi dalla mia app è semplice è semplicissimo basta scannerizzare il QR code con lo smartphone a parte la sincronizzazione ottimo per cui posso controllare poi tutte le funzioni tutte le funzioni dal telefono e dentro com'è cioè si riesce a configurare anche negli spazi assolutamente è molto versatile abbiamo il terzo cestello per le posate chiaro abbiamo un sacco di regalazioni anche nel cestellino si possono molto versatili anche per quanto riguarda i bicchieri si chiude hai posso anche regolare in altezza immagino anche in altezza certamente si può abbassare o sollevare pratico quindi alla fine una soluzione completa e versatile esatto una macchina completa per tutte le esigenze